ripartiamo dalla voce il podcast della federazione italiana teatro amatori la magia delle voci signore e signori buonasera dalla vostra selvaggia foresta apriamo il tg di questa sera con le notizie locali dalla nostra inviata speciale virginia tetamola a te virginia buonasera buonasera dalla vostra virginia tetamola per le news della val babiazza nel comune di brignassecca hanno riaperto scusate scusate dalla regina mi fanno segno che c'è un nostro telescoltatore al telefono sì pronto pronto sì chi parla oh il signor luigi guarda la vacca dica caro luigi dica cosa vorrebbe sapere come si chiamano gli abitanti di brignassecca sfigati caro luigi sfigati sì ma bene come vi stavo dicendo nella nostra cittadina hanno riaperto una casa chiusa no no ma cosa avete capito mettete il cuore in pace quelle ormai le han chiuse per sempre bene come dicevo hanno riaperto una casa chiusa da tempo in quanto pericolante i proprietari i fratelli capponi non avendo ovviamente eredi dopo uno splendido restauro hanno voluto destinare l'immobile a circolo sociale culturale ricreative che più ne ha più ne metta battezzandolo il sivetum oh ma leggo qui che sono già stati resi noti i temi in calendario a partire dalla prossima settimana oh bene bene vediamo un po' martedì meno pausa che passione un tema di nicchia direi a cui seguirà andropausa che allegria come no giovedì l'acciuga nella bagna cauda questa sconosciuta ci sono le varianti sabato la nutria della valva biassa nuovi insediamenti sul territorio sì domenica meglio uno zabaione oggi o una gallina in brodo domani relatore il professor amleto indeciso bene per oggi è tutto dalla valva biassa la vostra virginia tetamola vi augura una buona serata grazie alla nostra virginia che con la sua voce sensuale ci ha deliziati con le notizie dalla valva biassa ma ora proseguiamo con la collega guendalina che ci riferirà in merito alle ultime notizie dal mondo della scuola a te lina scusami lina lina non ti sentiamo pronto regia ci sono problemi con il collegamento sì probabilmente a causa ah no eccola sì buona serata buonasera mi sentite scusate problemi di connessione buonasera a tutti sono guendalina detta lina azzo e vi parlo da camera mia per darvi gli ultimi aggiornamenti sulla scuola e partiamo subito con il botto letteralmente finalmente infatti sono arrivati in tutte le scuole del piemonte i banchi a rotelle ospedali sovraffollati e didattica a distanza i genitori chiedono di rimuoverli per ovvi motivi di salute gli insegnanti obiettano non siamo mai stati meglio in classe dopo un primo aumento di perplessità infatti a seguito delle gare clandestine nei corridoi organizzati dai collaboratori ci siamo resi conto che l'atmosfera in aula non sia mai stata così rilassata ai dirigenti l'ardua sentenza ma passiamo ora alla questione più discussa in questo periodo la valutazione piante che crescono alcune che sono già cresciute altre che non sono ancora nate i voti sono stati accantonati e scambiati con le piantine che crescono genitori impazziti che si disperano per una piantina cresciuta ma non troppo maestri angusciati che in veste di psicologi consolano le famiglie sostenendo che una piantina non troppo sviluppata sia comunque un 8 o un 9 bambini della quinta primaria che si chiedono ma l'anno prossimo ci daranno ancora le piantine oppure torneremo ad essere dei numeri? oh ma insomma ho capito che il mio tempo è finito smettila di sbracciarti un attimo e finisco dammi tempo e da guendalina detta linazzo è tutto chissà cosa accadrà alle povere piantine a voi la linea in studio grazie lina per la ventata di freschezza che porti al nostro tg ma ora concludiamo il nostro giornale radio con una notizia di grande interesse per il mondo dello sport da palermo abbiamo in collegamento il nostro ignazio pidocchi per i campionati di atletica leggera delle lumache ignazio ci sei? sì grazie paola quello che è successo qui allo stadio olimpico babaluci di palermo in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera delle lumache è qualcosa di veramente straordinario ossia la nostra lumaca italiana Marisa Bavosa ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri piano la nostra atleta ha avuto la meglio sulla temibile rumena Oksana Lentinosa e sulla nuova stella nascente francese Jacqueline Escargot rispettivamente seconda e terza classificata siamo qui in attesa ormai da un'ora che la nostra lumaca si conceda un'intervista qua in diretta ma credo che i tempi siano un po' come dire leggermente lunghi la linea allo studio quanto mattizza stupido occhio è una cosa incredibile sarà sto fisico tosto sarà che mi chiamo selvaggia me fan pazzi ma per concludere vi presentiamo il palinsesto di questa sera che alle 21 ci offrirà la trasmissione gli amici di Maria un reportage sullo spaccio di sostanze stupefacenti e a seguire alle 22 un documentario sulle varie specie di api come l'ape dolce l'ape rugina l'ape che scrive la penna l'ape in via d'estinzione la pensione e per questa sera è tutto dalla vostra selvaggia foresta buona serata